Gian Maria, Gian Maria, sempre broxato caro mio, oggi ho qualcosina da dire, parto dalla prima frase del testo, dal primo pensiero che ho avuto quando ho iniziato, dice mi sanguina la mano dopo questa festa o no? Mi torna in mente il vecchio J-Hacks, vi ricordate Ti amo, ti ammazzo? Una canzone che fece in un periodo difficile, lui uscì dagli articolo 31 e si ritrovò veramente a fare i club da 300 persone, parliamo di uno che riempi gli stadi e che con gli articolo 31 aveva fatto la storia, era un periodo difficile in cui si stava cercando artisticamente, fece Ti amo, ti ammazzo, dice ho urlato così tanto che mi spacca la testa, c'è il segno lì sul muro, pensa a te che è stupido, da allora ce ne sono stati tantissimi di cantanti, gruppi, autori che hanno parlato, hanno fatto questa metafora della mano insanguinata nel senso del pugno che viene infranto contro una parete, una superficie per sfogare la rabbia durante una litigata, quindi quello che voglio dire è giusto, però insomma mi piace di più la frase che dice dopo, ma che cazzo urli in pubblico? Cioè questo esplicitare un dialogo così diretto, uso questa cosa, cioè va benissimo anche il discorso del pugno, lui comunque è giovane, ha 19 anni, parla a un pubblico che ha ancora bisogno di sentirselo dire, se io ho avuto J-Hax che me lo diceva, questa è la gente a Gian Maria, quindi va benissimo così. Quello che voglio dire è che io credo che la vera forza di Gian Maria sia proprio quando ha queste uscite nei suoi brani, dove appunto ti fa vivere quel momento, ti racconta il cinema, il film dell'istante che sta raccontando. E comunque a me piace il fatto che in questa esibizione in generale si è riempito di sfumature e ce ne ha offerte tante. Ecco, quel troppo rumore tra l'altro del ritornello secondo me è la dimostrazione che a volte non serve neanche una grande melodia, due parole dette bene che suonano in un certo modo, possono farla hit, magari questo brano non lo sarà, non è magari il caso specifico, però ecco quello che ci tengo a dire è il concetto, cioè che veramente a volte non bisogna costruire, non si sa cosa, ma una frase breve, una parola detta in un certo modo può trasformare il tuo brano in una hit, ne sono convinto e mi rimane più quello che il titolo diciamo, no? Il testo comunque è valido, però ragazzi quando fai un pezzo come i suicidi e poi è dura, è difficile, allora mi son detto che dico al riguardo, cioè il testo è valido ma mi ha fatto un passo indietro, no perché i suicidi sono quelle canzoni che un artista fa una volta, ne puoi fare, cioè come dire Renato Zero, nuovo disco, ma hai fatto i migliori anni della nostra vita, cioè quando fai un capolavoro è difficile, Gian Maria ha fatto il suo piccolo capolavoro, non è i migliori anni della nostra vita, però è un pezzo veramente di una qualità talmente grande che confrontarlo con se stesso in quelle vesti è stupido e quindi non lo farò, però il testo è valido ma non è chissà quale testo secondo me rispetto a quello che ci ha dimostrato di saper fare, tutto qua, però è comunque un ottimo testo, soprattutto nel ritornello, perché è più criptico, mi piace quando è ermetico Gian Maria, più che quando ti racconta, quando racconta adesso uno storytelling, cioè quando l'ha raccontato qui lo storytelling in questo modo, così diretto, era un alto e un basso di roba e si vedeva, non lo so, non lo so, non mi ha convinto pienamente, però per il target che lui giustamente adesso sta rappresentando va benissimo, anzi livello alto, anche lì. Performance tecnicamente carente, per chi vuole vedere l'aspetto tecnico, di certo non è il mio caso, però c'è da dire, tecnicamente carente, si mangiava le finali e anche il discorso del controllo che hanno posto i giudici, è vero, è vero, l'artista deve essere capace di perdere il controllo senza perderlo, quindi mostrandoti quello, oppure perderlo sfrenatamente, e quindi qui abbiamo la rockstar che spacca la chitarra, se hai X Factor non puoi perdere sfrenatamente il controllo, quindi di conseguenza se perdi il controllo devi saperlo perdere, e a me piace che uno perde il controllo e mi è piaciuto perché è stato autentico, quindi però capisco il discorso, capisco il discorso, cioè come un attore che deve fare una parte drammatica e scoppia a piangere come un pazzo, sì ok, ma la bellezza è anche quando mi sai mostrare il dramma senza esasperare, se no diventi un cane, lui non è stato un cane, ha avuto degli sprazzi in cui ha raccontato degli aspetti di sé con dei gesti, però ecco ci serve tecnica, è l'esperienza che manca, mica c'ha ragione, è vero, è vero, c'è lui questa roba qua che ha portato oggi, tra un anno, tra due anni, tra dieci anni, la fa meglio, il principio è lo stesso, bisogna migliorare, lui non ha mai fatto un live prima di X Factor, cioè è pazzesco quello che sta facendo, il discorso è che se l'altra volta ne ho parlato dicendo Gian Maria si muove come un professionista, e perché l'ha sempre fatto, in questo caso io credo che lui si sia comportato per quello che è, cioè un esordiente molto promettente, basta e ci sta, e va benissimo così, professionale, professionismo ovviamente, un mica, che è un grande professionista, ha un'altra visione, comunque quello che hanno detto i giudici, che sembra che ogni tanto parlano a vanvera, il pubblico si lamentano, qui hanno dato delle critiche costruttive, non dei giudizi, cioè qui hanno detto cose importanti, utili, e che comunque questi sono ragazzi, cioè nel senso sbagliano, non esiste la performance perfetta, neanche i migliori la fanno, quindi cazzo, avrando il diritto ogni tanto di dire, oh, migliora questo, consigli vitali, che se Gian Maria segue, diventa quello che sta facendo.